Lui c'è un primo tempo che è sicuramente condizionato, prendere tre gol in un tempo, poi è difficile risalire alla china, ci sono ovviamente delle responsabilità da parte della fase difensiva, bravo anche il Monte Rotondo e probabilmente sul secondo gol loro c'è anche un fallo non fischiato su Salvatore, se vogliamo trovare una piccola giustificazione. Però rimane una prestazione sotto tono soprattutto nel primo tempo. Non è una giustificazione, è una partita giocata male nel primo tempo, abbiamo sbagliato quasi tutti quanti, non è che c'è un reparto o c'è qualcosa, l'approccio non è stato quello dei migliori ma come ho detto e ho chiesto scusa io personalmente ai tifosi lo faccio pure qua. Mi prendo le responsabilità perché questa squadra non può far meno di qualche giocatore che oggi ho rinunciato perché pensavo di giocare qualcosa di domenica e pensavo che magari si potesse vincere pure lasciando qualche giocatore fuori. Probabilmente non è così perché si è visto pure nel secondo tempo che sia Mercuri che Castellano mi hanno cambiato la cara totalmente. Sicuramente, però bisogna fare delle scelte, io sono qua a prendermi sempre le responsabilità. Ho chiesto scusa perché forse io dovevo magari non rivoluzionare una squadra che stava camminando bene. Però mi voglio prendere le responsabilità, però pure loro sono rammaricati perché sanno che non hanno fatto un primo tempo all'altezza. Il secondo tempo abbiamo comandato noi, però abbiamo fatto sicuramente… C'è stato il palo di Falle che precedente al gol poteva riaprire ancora di più la gara. Prendere il terzo gol nel primo tempo, però questo sapevamo, un campetto piccolo, campetto che loro sono abituati, si allenano, magari noi siamo un pochettino sui campi un po' più grandi, però non è una giustificazione. Abbiamo fatto un primo tempo non all'altezza ed è giusto che ci prendiamo le critiche, però io ci tengo a sottolineare verso di voi e verso i difusi che oggi il 60-70% della colpa è di Vascoglio Luizio. Non era un'ossessione prima, adesso i pre-off sono davvero lontani. Non solo lontani perché siamo rimasti a due punti, battiamo il campo basso e… A proposito di questo, quindi Chieti, anche la notizia di oggi può essere questa, Chieti arbitro della promozione. Arbitro, noi siamo arbitro perché se vogliamo ancora… Io ho fatto quella scelta perché ci credevo e ci credo ancora nel raggiungimento, perché non crederci. Sì, però sicuramente abbiamo staccato oggi, però come hai detto tu c'è ancora speranza, siamo gli arbitri della gara di domenica, ma non è che dobbiamo essere arbitri. Noi adesso dobbiamo davanti ai nostri tifosi chiudere la stagione in casa all'altezza della situazione, però come ti ripeto oggi ci ho messo del mio e mi prendo tutte le responsabilità.